Ecco i famosi cannoni per fare la neve, non sono dei cannoni, sono delle bocche, sembrano bocche di ovici. Per poter fare la neve artificiale sono necessari due particolari, che la temperatura sia sotto zero e ci sia un giusto grado di umidità, senza le quali queste due caratteristiche non è possibile fare la neve. Ecco, si fa la neve ma guardate sulla montagna c'è il sole. Fino all'altra settimana ha nevicato in abbondanza, si erano aperti gli impianti per il ponte di Sant'Ambrogio. Poi è stata nebbia, acqua di rotto, se l'è mangiata tutta.